E a bella a tutti i ragazzi professionali, questo è noi stiamo io, sono Maxiano di 94, oggi sono su Blow Stars, questo video lo sto facendo a mare, è nello spalmaggio del video dove devo portare il primo al grado 20, sono il primo a 95 pop, però credo che in una partita già facciamo, quindi il primo al grado 20 e ciò che voglio cercare di portare sticca, ha legato 10, siamo con buio. Non c'è la visione del eldo più spalmaggio, non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio. farò più forse perché ormai il primo se lo ha credo che inizia, basta che arriviamo secondi ah già, non è vero, ci siamo arrivati per secondi va beh, mi giociamo qua oddio non sono nemmeno io per sottolineare questo video però raga ora ci sono le ore intima 495 per me è anche va schifo quindi ho detto vabbè, ho registrato il video ormai Voi non potete capire nemmeno come si fa questo video Aia! Alla morì! Vabbè Ma perché i colti fanno una vuci che si erano 40? Ma non so Rinaglio Grande vabbè non ho usato la usci questo qua sono rosa hai già allora cerchiamo a secondi ok ci sono rosa manca la cosa ecco mio ecco mio grande bro io ci amo e chi è il grande 20 adesso sto facendo un altro posto eppure il primo raga ce lo siamo portati a casa aspetta ok raga devo portare stec al grado 10 perchè mi posso prendere la skin di bull che è quella che voglio perchè non credo mai che non riesco a prendere quella di bomecio quindi prendo quella di bull e poi cerco di fare quella di bomecio basta che porto stec al grado 10 ok raga dai che me lo voglio portare a grado 10 e la strada è che poi si sente a busto perchè c'è non calzino a studio ma tutto poi non serve tanto che si scrivete la mia voce ma non è che non si parto tanto nel video ma ma Ok? No! tutta la vita no vabbè ragazzi taglio tutto ci vediamo quando avrò stecca quando sarò stecca a grado 9 anche per le notifiche perchè la cosa che mi piace fare mentre faccio i video di alento se non ho fatto una piper forza su bottone oh no 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 ma no quindi meno 2 faccio il singolo il singolo mi trovo meglio ma dai ci vediamo dopo l'ora ok ragazzi da qua ricominciamo molto però ce la devo fare ok qua c'è una rosa anche perché stefano è più semplice e vabbè i due ora dovete morire un cambio dai ragazzi 20 popper dobbiamo fare 20 popper non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito no l'asciugo ma no è ma no non lo stico ma non male di ci vediamo